4 mori contro Ispaponisi, si gioca per la seconda giornata della Champions Cup Elite, campo quello del Family Club di Selarjus, l'Ispaponisi con una vittoria sarebbe matematicamente in Serie A, i 4 mori invece in virtù del pari tra CMD e McLama Drink si rimetterebbero in carreggiata. Ci prova Schinelli su calcio di punizione e Marco Melis in qualche modo riesce a dire di no. È tutto sostanzialmente per il primo tempo, andiamo con le immagini montate dal nostro Andrea Ucchetto a vedere quello che succederà in un secondo tempo letteralmente scoppiettante. Negli Spaponisi entra in porta Aliaxandar Maroz liberando il campo per patron Marco Melis che guardate cosa si inventa dopo 60 secondi col destro sotto l'incrocio gli Spaponisi sono in vantaggio. Grandissimo gol da parte di Marco Melis, poi ci prova Zenni dalla sinistra, in qualche modo Frigau non è finita però, la formazione ospite rimane in avanti. Marco Melis la palla per Mainas che prova il destro, c'è una sfortunata deviazione da parte di Melis il raddoppio degli Spaponisi. Quando siamo al minuto numero 33, la formazione di Luca Melis però non si arrende, calcio di punizione dal limite, se ne incarica Testa, conclusione violenta, Maroz alza sopra la traversa. Andiamo adesso al minuto numero 41, continuano ad attaccare i padroni di casa, Testa ci prova col destro dal limite, Maroz malissimo 2 a 1, accorciano le distanze i padroni di casa. E un minuto più tardi, Babacar 2 a 2, clamoroso, ma sarà ancora più clamoroso quest'errore sottoporta da parte di Luca Rice. Finirà così al campo family, beffa i Spaponisi contro 4 mori, finisce 2 a 2.